Ci ritroviamo qui a Sassari oggi insieme alla Fondazione Bellisario Delegazione Sardegna con Confindustri e Giovani Industriali per firmare un impegno comune nei confronti della formazione e dell'informazione per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, il rafforzamento delle competenze, l'inclusione sociale e finanziaria delle donne, delle lavoratrici e delle imprenditrici e degli imprenditori in un rinnovato senso di coesione sociale che vuole fare la differenza nella ripartenza del nostro Paese.